Mister Domenica ha questa trasferta che fa un certo effetto. Sì, è una trasferta importante contro la prima della classe. Al di là di questo, una squadra che ha fatto la storia del calcio in Italia, ha vinto un campionato in Serie A e la dice tutta. Noi andiamo, sappiamo le difficoltà che andiamo a incontrare, però siamo fiduciosi, andiamo a giocarci la nostra partita. Confido nei ragazzi, sicuramente usciremo dal campo a testa alta e sono convinto che possiamo far bene. L'obiettivo per l'appunto è fare bella figura, dare il meglio di sé. Anche perché le gare più importanti vengono dopo, con le due gare interne. Ogni gara è importante, anche quella di domenica. Quindi ci sono tre punti in palio e dobbiamo giocare per quelli. Per fortuna ritorneranno varie persone dalla squalifica. Pian piano state recuperando tutto il gruppo. Sì, oggi per la prima volta si è visto in Galizia. Direi che è una buona notizia. Mancava parte Pozielle Romano con i postumi dell'influenza, mancava Alfano. Ci auguriamo di poterli avere quanto prima tutti a disposizione. Sarebbe già una gran cosa. Dopo questa trasferta abbiamo detto le due gare casalinghe. Lei come guarda il futuro in questo momento? Ma io, il mio futuro è Verona. Quello che sarà dopo lo affronteremo dopo. Verona, che per me è una partita, torno a ripetere, ci sono dei punti in palio. Non partiamo sicuramente battuti in partenza. Ce la giocheremo sino in fondo. Io penso che l'avversario avrà filo da torcere per spuntare questa gara. Grazie. Grazie. Grazie.